Musica Alla mostra del cinema di Venezia la Basilicata presenta la sua film commission e lancia Matera come capitale della cultura 2019. Sentiamo Cursio Pettenot. La passerella davanti al Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, la mostra internazionale d'arte cinematografica, è uno di quegli appuntamenti di gran richiamo, occasione anche promozionale per varie iniziative legate al cinema. La Basilicata ha lanciato proprio dal Lido di Venezia con una serata in Riva alla Laguna la sua film commission. Cosa può dare di più una film commission? Può essere uno strumento che facilita la produzione e la sostiene in termini finanziari, ma l'aspetto della facilitazione, cioè dell'interazione più semplice con il territorio, con le burocrazie che ovviamente intorno ad una produzione cinematografica comunque possono produrre problemi, mi sembra l'aspetto più innovativo del nostro statuto che è alla base di una iniziativa sicuramente della quale sentiremo parlare nei prossimi anni. È anche un'operazione che può poi dare qualcosa al turismo? Assolutamente sì, il cineturismo è già oggi uno dei percorsi, dei itinerari dell'offerta turistica della Basilicata e noi siamo convinti che in futuro il cinema possa essere di grande aiuto per scoprire una regione ancora poco nota. Noi qui a Venezia siamo presenti oltre a far conoscere il nostro territorio ma a far conoscere anche la Basilicata, siamo qui come Basilicata a terra di cinema e nella nostra area abbiamo proprio dei set naturali per produzione cinematografiche. Qui siamo presenti insieme alla Palomar che è una grossa società di produzione cinematografica e speriamo di poter far sì che nel prossimo futuro vengono a girare delle produzioni anche in Basilicata. Sono oltre 40 i film che negli ultimi 50 anni sono stati girati in Basilicata in luoghi affascinanti come i Sassi di Matera. La Basilicata è un set naturale, è ricca di luoghi, di evocazioni, di rimandi storici, il territorio e cultura e valori si trasmettono in maniera integrata e organica e con un fascio, una suggestione che è difficile da superare o da rimuovere. E a Lido di Venezia è un incontro pomeridiano, la Basilicata nel corso del Festival del Cinema ha presentato la candidatura di Matera perché nel 2019 diventi capitale europea della cultura. Matera è un grande fertilizzatore di civiltà, un laboratorio di storia, dell'urbanistica, della sociologia, della storia dell'uomo e quindi come collocato nel Mediterraneo è un punto di riferimento nel quale si possono ritrovare tutti i valori antichi della civiltà umana. Matera 2019 è un obiettivo importante come capitale della cultura europea, le amministrazioni, le associazioni, la scuola, l'università, i cittadini lucani si stanno insieme stringendo intorno a questo grande obiettivo per la Basilicata.